Ciao ragazzi, diamo il nome a questi composti. Prima cosa da fare è individuare la catena più lunga, vedete, è questa, 1, 2, 3, 4, quindi è un but, deriva dal butano, quindi butan, e poi, essendoci l'OH, butanolo. La regola IUPAC mi dice che devo dare la numerazione più bassa possibile dalla funzione OH, quindi è facile intuire che questo sarà l'atomo di carbonio 1, per cui questo è il composto 1 butanolo. Andiamo su questo composto. Notiamo che sono sempre quattro atomi di carbonio, 1, 2, 3 e 4, ok? Quindi saremo sempre con un butanolo, perché c'è sempre l'OH. La regola IUPAC, come sempre, ci dice che dobbiamo dare all'OH la numerazione più bassa possibile, quindi è facile intuire che posso partire da questo atomo di carbonio e avere, quindi, questo 1 e questo 2, quindi sarà il 2 butanolo. Benissimo. Adesso ci spostiamo a questo composto. Notiamo sempre che ha quattro atomo di carbonio, 1, 2, 3, 4, quindi sarà sempre un butanolo. Attenzione però, l'OH dove si trova? Beh, la prima risposta che potrebbe venirmi in mente sarebbe quello di dire, beh, questo è 1, questo è 2, questo sarà il 3. Attenzione però, la regola IUPAC ci dice di assegnare la numerazione più bassa possibile all'OH, quindi 3 butanolo non sarebbe così corretta, anche perché partirei da qui a numerare, quindi 1, 2. Quindi questo composto è il 2 butanolo, ok? Attenzione adesso a questo composto. Stesso ragionamento, quattro atomi di carbonio, abbiamo sempre un butanolo. Che atomo di carbonio è questo? Beh, seguendo questa numerazione potremmo dire il 4 butanolo, però sappiate bene che il 4 butanolo non può esistere, in quanto io all'OH devo dare per forza la numerazione più bassa possibile, quindi questo sarà comunque l'1 butanolo. Quindi questo composto qui e questo composto qui sono esattamente la stessa molecola, come questo composto qui e questo composto qui sono esattamente la stessa molecola.